Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo all'ora. Video di oggi per parlare di Skriniar e di quelli che già stanno scrivendo sui social stasera allo stadio, va fischiato. Prima però vi ricordo una cosa. Stasera alle 22.30 c'è cartellino giallo, quindi la partita dell'Inter finirà proprio nel momento in cui comincerà cartellino giallo. Non so a che ora riuscirò a portarvi il solito video post partita, spero di riuscire a estrapolare in tempo reale che la regia di Cartellino Giallo riesca a estrapolare in tempo reale la mia reaction in trasmissione su Inter Empoli per poterla poi postare sul canale il prima possibile. Altrimenti dovrei aspettare la fine della trasmissione, ovvero mezzanotte, mettermi lì, fare il video, caricarlo. Si fa mezzanotte e mezza, mezzanotte e quaranta. Insomma a me piace sempre avere tempismo sulle cose, però purtroppo quando l'Inter gioca il lunedì e un paio di volte a stagione capita, ci sono queste cose un po' che si accavallano, purtroppo capita poco ma un paio di volte a stagione capita, quindi il video stasera non so a che ora e cosa verrà fuori, le Mastropagelle domani usciranno un po' più tardi perché poi io tornerò a Milano, arriverò a Milano verso le 13.30, ora che arrivo a casa le faccio non usciranno alle 13 come al solito. Quando l'Inter gioca di lunedì ci sono un po' di problemi e mi sembra che nel prossimo domani e fra due o tre partite gioca di nuovo di lunedì, quindi ci sarà questo intoppo un paio di volte nel breve periodo. Detto questo, comincio a leggere sui social, stasera Skriniar va fischiato, stasera gli faremo vedere. Ragazzi scusate ma a cosa serve fischiarlo? Si risolve qualcosa fischiandolo? Secondo me forse potrebbe solamente giocare peggio. Adesso lui mi sembra uno sul pezzo mentalmente, nel senso mi sembra un professionista serio, mi sembra uno che ha sempre sudato la maglia, mi sembra uno che non ha mai da questo punto di vista sbagliato dell'impegno. Però fischiarlo o insultarlo non credo possa servire a qualcosa. Skriniar ci serve fino a giugno, sempre che resti fino a giugno, perché leggo che potrebbe a questo punto anche andare via per 15-20 milioni quello che è, ma se ha già un accordo col PSG, non lo so, a meno che il PSG non lo voglia subito, perché pensa che gli possa servire per la Champions League già quest'anno. Comunque non credo che fischiarlo finché gioca da noi possa servire a qualcosa. Magari tenetevi i fischi un domani se torna con la maglia del PSG, allora lì sfogatevi se lo volete fischiare. Fischiatelo pure, ma non credo... Sono curioso anch'io di vedere un po' la reazione di San Siro, anche perché comunque San Siro gli ha dimostrato tanto amore nelle ultime partite, striscioni per lui, Skriniar sei il nostro capitano, resta a Milano. Insomma le dimostrazioni di amore verso questo giocatore non sono mancate. Sono curioso di vedere un pochettino come reagirà San Siro, se reagirà ignorandolo, se continueranno a fargli i cori finché giocherà con la maglia dell'Inter, se ci sarà qualche fischio. Ecco, se proprio secondo me in questo momento avete il bruciaculo per il fatto che non ha rinnovato, ignorarlo forse è la cosa migliore. Magari adesso non dico di inneggiarlo, di fargli chissà che cosa, però se dovete fischiarlo, insultarlo, secondo me è meglio ignorarlo. Io su Skriniar mi sono già espresso con un video, due o tre video fa, se non l'avete visto andatela a vedere, a me dispiace di più il fatto che non prenderemo una lira, mi dispiace più del fatto che se ne andrà, perché insomma siamo in una condizione economica particolare e se penso alla difesa, ragazzi, in questo momento l'unico giocatore giovane e futuribile che abbiamo in difesa è Bastoni. De Vrij inizia ad avere una certa età, è in scadenza. Skriniar pare che se ne andrà, insomma a questo punto se ne andrà. Acerbi ha una certa età ed è in prestito. D'Ambrosio ha un altro anno in più, l'ho visto abbastanza arrugginito l'ultima volta col Parma in Coppa Italia ed è in scadenza. Quindi, ragazzi, qui la situazione, centi rinnovi che io non avrei fatto o avrei smesso di fare, a questo punto non credo che l'Inter possa tenere Bastoni e rifare tutta la difesa perché non abbiamo i soldi, a questo punto si può anche iniziare a pensare a un rinnovo di De Vrij che nell'ultimo anno e mezzo non mi ha entusiasmato, che nell'ultimo anno e mezzo ha fatto parecchie cappelle, ma che se dovessi accettare una riduzione dell'ingaggio sostanziosa, Stefanino, sostanziosa perché nell'ultimo anno e mezzo, male male, a questo punto si può pensare anche a un rinnovo di De Vrij, a questo punto si può pensare anche a un riscatto di acerbi, perché sinceramente se prima queste cose dicevi, già se ne tengo uno dei due, va bene, ci penseremo a questo punto ragazzi, cioè Bastoni ok lo teniamo, ma D'Ambrosio, non lo so, acerbi, De Vrij, Skriner se ne va, cioè qui 4 su 5, 4 su 5, non so, c'è la situazione col punto di domanda, a me piacerebbe che anche magari dire, va bene ragazzi via tutti, facciamo la difesa nuova, l'Inter ne compra 4 nuovi, con che soldi? Con che soldi? Quindi sono molto preoccupato per la questione difensiva, dove abbiamo un'unica certezza oggi che è Alessandro Bastoni, questa è l'unica certezza che abbiamo in questo momento, l'altra cosa che mi fa un po' paura è, come ho detto sempre l'altra volta, basterà il sacrificio di Dumfries con il mancato guadagno che abbiamo dall'accessione di Skriner, basterà il sacrificio di Dumfries? Io spero di sì, il problema sapete cos'è? È che se ci facciamo bastare il sacrificio di Dumfries, faremo un altro mercato a 0, cercando il prestito, cercando il parametro 0, cioè, cercando lo smalling della situazione, a me sinceramente raga, smalling non è che mi entusiasma più di tanto, non è che mi faccia impazzire, però ultimamente con la Roma ci abbiamo azzeccato, prendendo qualche vecchietto con Gekko ci abbiamo azzeccato, con Mkhitaryan a parte il primo mese che non è andato un grand cap, sembra che adesso ha ingranato, ci abbiamo azzeccato, magari ci si può azzeccare anche con smalling, e tanto noi adesso facciamo un calciomercato da due anni, dove non è che progettiamo, mettiamo toppe, una toppa di qua, una toppa di là, una toppa qui, una toppa là, possiamo buttare su anche la toppa smalling il prossimo anno, oppure, oppure, se si vuole fare un minimo minimo di mercato, oltre a Dumfries, temo che possa venire fuori di discorso di cedere qualcun altro, e lì ragazzi si va a toccare, se si vuole fare qualche soldo, i giocatori come Brozovic, Barella, Lautaro, gente che per me è intoccabile, gente che per me non deve essere assolutamente toccata, quindi, da questo punto di vista sono preoccupato, e ribadisco, mi scoccia più per tutti questi motivi che vi ho elencato, perderlo a zero, che perderlo, perderlo a zero, che perderlo, ed è per questo che io quest'estate dicevo, scolta, a me mi va bene anche che ci danno quei 60-65 milioni, prendiamo Bremer, un po' gli altri ce li mettiamo in tasca, e poi vediamo il da farsi, alla fine non abbiamo preso Bremer, non abbiamo preso i soldi, e ce lo siamo preso in quel posto, ci vediamo stasera con un cartellino giallo, ragazzi, mi raccomando, canale 14, in Emilia Romagna, oppure, se non abitate in Emilia Romagna, scaricate l'applicazione gratuita di numero 10, vi lascio il link nel primo commento, è gratis, andate nella sezione video, e trovate cartellino giallo, ciao!